Incidente ieri sera ad Angellara, frazione di Vallo della Lucania. Il sinistro è avvenuto nella zona industriale con l'impatto tra un'auto e una moto. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. Il motociclista è stato trasferito all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. L'uomo che era alla guida dell'auto è risultato positivo all'alcol test. Sul posto per le indagini di rito sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Vallo. Il centauro è stato soccorso dai sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vallo.